E' un Alfredo Donnarumma a ruota libera nei nostri studi, ospite di Giusy Cingoli nel settimanale dedicato alla Lega Pro del lunedì sera. Parla dei tifosi e della soddisfazione della squadra per aver fatto innamorare una città intera e di quanto sia importante il sossegno del pubblico. Fa piacere vedere la curva piena, perché comunque siamo riusciti a portare entusiasmo alla gente, per questo fa piacere ancora di più. Spero che da qui fino alla fine lo stadio si riempirà e così sarà tutto più bello. Spero che domenica riempiremo lo stadio, perché i tifosi saranno l'uomo in più per noi da qui alla fine e devono fare quello che stanno facendo fino ad ora. Poi parla dell'Ascoli. Noi abbiamo perso questa partita, loro hanno recuperato dei punti, però siamo ancora là, il distacco è ancora importante. Bisogna ripartire subito da domenica e vincere. Poi se vinciamo noi, a noi l'Ascoli poco interessa. Dipende da noi e non dall'Ascoli, perché se noi vinciamo e loro vincono siamo sempre lì, quindi dipende tutto da noi. Mi piace guardare al presente, io penso a domenica e basta. Dietro per me c'è nulla, c'è solo il Ponte Terra. E le differenze con il suo Teramo? L'Ascoli ha delle individualità importanti, però come gioco io credo che dall'inizio non ha mai avuto questo gioco bello da vedere. Quindi noi siamo una squadra più che gioca a palla a terra, arriva con pochi passaggi nell'area avversaria. Non mancano gli elogi per il suo gemello, la Padula. Sicuramente ci troviamo bene, tante cose vengono naturali, è tutto naturale che le nostre caratteristiche si sposano, quindi è tutto fatto con naturalezza. 24 risultati utili consecutivi per Donna Rumma non si devono soltanto al cambio di modulo, ma soprattutto al diverso atteggiamento degli uomini di Vivarini. E che stare lì davanti a tutti in fondo non è un caso. Alla fine puoi fare tanti moduli, ma se non hai l'atteggiamento, l'approccio giusto alla gara... E' lo spirito di sacrificio quello che conta. Sì, ci sono tanti componenti che fanno la partita, perché comunque anche all'inizio giocavamo bene, però non veniva fuori il risultato, perché c'era un altro atteggiamento. Da quando abbiamo cambiato modulo c'è stato più atteggiamento, più spirito di sacrificio e è venuto fuori le nostre qualità. Io penso che fino ad ora a noi nessuno ci ha regalato niente, tutto quello che abbiamo guadagnato è stato tutto fatto del nostro lavoro. E infine ringrazia la nostra emittente, Vera TV, unica che dall'inizio del campionato ha sempre seguito il Teramo, anche nelle trasferte più lontane. Intanto grazie a voi che mi avete ospitato qui, crepi il lupo per domenica e poi mi fa piacere che comunque ci seguite anche in trasferte lontano, quindi un grazie anche a voi, un particolare che ci state vicino.